ciao sono alessia di alessia scrap and craft e casa organizzata se non vuoi perdere neanche uno dei miei video ti ricorda di cliccare la campanellina qui sotto in modo appunto da ricevere le notifiche appena esce qualcosa di nuovo ce ne sono spesso ne sto facendo molti e quindi seguimi ciao ciao buongiorno a tutti oggi sono tutta torniata da questi filati cervinia perché vi volevo far vedere ho comprato dei filati cervinia appositamente di vari spessori perché vi volevo far vedere una cosa allora intanto vi faccio vedere il tipo di filati questo è quello che uso di solito che è il caprice di cervinia che riporta sulla fascetta due e mezzo tre ma anche tre e mezzo quattro come uncinetto va bene poi ho preso questo cervinia qui sempre in due colori negli stessi colori caprice maxi che qui è la fascetta ha un errore perché infatti riporta sempre due e mezzo tre ma in realtà è almeno da 5 4 e mezzo 5 come uncinetto e poi ho preso ancora degli altri filati sempre in cervinia ancora più spessi che sono questi qui norvegia questi qui sono tutti acrilico mentre invece questo norvegia dovrebbe essere 50 e 50 vediamo un po si 50 lana e 50 acrilico ed è ancora più spesso infatti la facetta riporta 89 io questo qui il norvegia l'ho lavorato con il numero 10 di uncinetto e li ho presi per provare una cosa cioè una cosa che vi dico spesso quando mi chiedete come faccio a ingrandire un progetto il modo più semplice mantenendo la stessa identico schema è di utilizzare dei filati più spessi in questo caso questo questi tre filati ci fanno vedere io ho fatto una mattonella granni la stessa nei nei vari spessori e vediamo come viene fuori allora sposto un attimo qui i gomitoli e vediamo le nostre mattonelle che sono qua allora questa qui è la piccolina quella di cui avevo fatto il video un po di tempo fa vi lascio qui sotto il link è quella con il cuoricino una mattonella semplice con il cuoricino c'è il video e c'è anche lo schema per semplificare ancora al lavoro e è una mattonella piccolina con solo quattro giri che ha come dimensioni 10 centimetri di lato questa è fatta con il caprice quello normale quello più fine eccolo qua che appunto io lavoro col tre tra il tre e il quattro come uncinetto tra tre e mezzo insomma tre e mezzo circa e viene fuori questa mattonellina con l'altro filato che è il caprice maxi lavorato con l'uncinetto 5 indicativamente ecco qui la mattonella che assume tutta un'altra dimensione eccola qui vi faccio vedere con la gigantona eccola qua e la differenza è questa che il lato è 15 cm quindi questo era 10 questo è 15 e poi abbiamo ancora quella appunto gigantona fatta con il filato lavorato con il l'uncinetto numero 10 quello che si chiama norvegia cioè questo qui questo qui proprio bello spesso vedete che mi faccio vedere vicino alle dita proprio bello spesso ed eccola qua io adesso non neanche ancora messa in forma perché l'ho proprio appena fatte queste più grandi ed ecco qui la dimensione che ve lo dico già esattamente il doppio di questa quindi 10 centimetri di lato 15 centimetri di lato e 20 centimetri di lato eccola qua quindi come vedete a seconda della vediamo bene in questo caso seconda della dello spessore del filato come cambia la dimensione finale ovviamente con delle mattonellone grosse come questa fare una copertina si fa molto in fretta perché appunto essendo 20 centimetri però volendo si possono anche mescolare è vero che sarà un pochino più difficile poi cucirle però si possono anche magari perché no mescolare e riuscire ad arrivare lo stesso a fare una dimensione di una copertina finita o di un plaid quindi questo per farvi vedere appunto praticamente lo stesso identico lo stesso identico schema come cambia cambiando variando il lo spessore del filato e dell'uncinetto direi che vi ho detto tutto perché era questa la cosa che vi volevo far vedere quindi ricordatevi questa possibilità di di ingrandire o anche rimpicciolire adesso non ce l'ho sotto mano ma avevo fatto anche questo stesso schema con un filato cable 5 quindi fine fine e avevo ci avevo fatto una spilletta quindi era venuto grosso così più o meno vi lascio qui sotto il link del posto sul blog dove c'è anche questo stesso schema però fatto piccolino quindi col cotone fine così potete vedere anche questa questa cosa questo ulteriore misura dire ecco detto tutto se avete domande su questo argomento anche su altri me le potete fare nei commenti buon lavoro e buon weekend perché domani e sabato ciao grazie a tutti